Ciao e grazie, prima di analizzare la partita ieri sera tra Verona e Juventus volevo dire, volevo farvi riflettere su un piccolo post che ho messo ieri su Facebook, siccome io metto i miei video li metto sia su Facebook, su Instagram e li metto anche su YouTube, su YouTube li metto per un sacco di gente che non ha i social, no? E io ieri su Facebook ho scritto questa frase al quale vi invito a riflettere su questa mia frase voi amanti del calcio, sapete che qua si parla di calcio al di là delle bandiere dei colori, quindi questa è una frase per chi ama il gioco del calcio, non per chi è tifoso del Milan, dell'Inter, dell'Iventus, della Sampdoria, del Genoa, ho scritto questa frase, il gioco del calcio è un gioco semplice che in tanti stanno cercando di rendere complicato, poi arriva lui Claudio Ranieri e tutto torna semplice, ecco riflettete voi amanti del gioco del calcio su questo mio post e fatemi sapere anche che cosa ne pensate. Detto questo analizziamo la partita ieri sera tra Verona e Juventus, la prima cosa che mi viene da dire è che bello deve essere stato giocare ieri al Bentegodi in un'atmosfera ragazzi da finale di Coppa del Mondo, ma un tifo, guarda mi viene la pelle d'oca ancora adesso a pensare a cosa è stato ieri sera perché l'ambiente veramente ieri sera è stato fantastico in una partita in cui il Verona ha meritato, non sul piano delle occasioni, perché se andiamo a vedere le occasioni parate di Chesney io non è che me ne ricordi più di tante perché mentre mi ricordo il palo di Cristiano Ronaldo e la traversa di Douglas Costa, quindi sul piano delle occasioni no, ma sul piano del gioco devo dire che il Verona ha ampiamente meritato di vincere la partita e devo usare questo termine che uso qualche volta, devo dire che il Verona ha letteralmente tritato la Juventus ieri sera sul piano del gioco. I primi 35 minuti, 36 del Verona ieri nel primo sono stati veramente fantastici, una poesia calcistica, ma non è che il Verona, i giocatori del Verona corrono più di quelli della Juventus, i giocatori del Verona corrono meglio di quelli della Juventus, è la qualità delle giocate che fa sembrare che una squadra corra di più rispetto a un'altra. Vi faccio un esempio, palla e mezza Pjanic, cambio gioco sulla sinistra verso Alexandro, quante volte ieri Alexandro ha dovuto prendere e fermarsi perché la palla era leggermente indietro, lì ti devi fermare, tornare indietro, un tempo di gioco perso, ripartire, secondo tempo di gioco perso. Mentre ieri quando Veloso e Amrabat, che è un giocatore, io divento matto, Amrabat è un orgasmo calcistico vedere giocare questo ragazzo e complimenti, lo ha preso mi sembra la Fiorentina, complimenti alla Fiorentina che ha preso un giocatore secondo me straordinario, Amrabat la palla sugli esterni a Zaccagni, a Faraoni, la palla sempre sulla corsa, sempre sulla corsa costringi l'avversario a rincorrerti e tu prima cosa ti diverti perché è più divertente giocare con la palla che senza la palla e poi sei sempre con la fronte verso la porta, sei sempre pericoloso e vedi sempre il gioco e sei sempre in anticipo rispetto agli avversari, invece ieri la Juventus, passaggi precisi, pochi, una scarsa qualità tecnica, che è una cosa che sottolineava spesso Massimiliano Allegri perché pochi allenatori, e io andate a vedere i miei video, ve lo dicevo già l'anno scorso e anche due anni fa, parlano della qualità tecnica delle giocate, è quello perché alla fine il gioco del calcio non è atletica con una sfera a cui bisogna dare un calcio, ma prima cosa è una capacità tecnica, di sensibilità, di saper leggere le situazioni e poi diventa un fattore fisico, perché se no basterebbe prendere 111, 100 metristi americani alti 1,90 per 85 kg e metterli in campo, invece ci sono tante cose più importanti, adesso si privilegia di più le qualità fisiche che quelle tecniche, invece, ve lo ricordo sempre, è un gioco di abilità. Allora, un'altra cosa che volevo dire è, sono un po' indignato con i social perché la solita polemica per il gol annullato a Kumbulla, io non ci vedo niente di anormale nel gol annullato a Kumbulla, allora, e questa cosa mi fa arrabbiare perché in Italia siamo ancora indietro culturalmente, Juventus, Parma Juventus, gol annullato a Cristiano Ronaldo che è in fuorigioco di tanto così, tutti, giusto annullare il gol di Cristiano Ronaldo, giusto perché è fuorigioco, c'è una regola, se tu sei più avanti, anche di un centimetro, sei in fuorigioco. Ieri annullano il gol al Verona, che scandalo, è un fuorigioco solo di un centimetro, no, bisogna essere onesti, se tu sei in fuorigioco, sei in fuorigioco sia che tu abbia la maglia della Juventus, che tu abbia la maglia della Sampdoria, che abbia la maglia del Venezia Mestre, che abbia la maglia della Cremonese, se sei fuorigioco, è sempre fuorigioco, cerchiamo di fare questo sforzo culturale per cercare di migliorarci, non è difficile, su, mi fanno vedere anche le righe, non si può più sbagliare. Molto bello il primo gol di Cristiano Ronaldo, un gol veramente che, insomma, è un gol fantastico, è un gol che poteva fare solo lui, è un gol bellissimo, bellissimo anche perché il Verona, qui torniamo a quello che ogni tanto diciamo questo, forse troppo attaccare in alto l'avversario, forse io lo lascerei giocare e cominciamo a pensare un po' più indietro, se no dopo dietro lasci tanta profondità e il primo gol di Cristiano Ronaldo, nell'esempio, quando tu hai giocatori davanti così forti, 1-2, questo va in porta, doppio passo, tiro incrociato, è un gol fantastico, è un gol fantastico di un campione che io qualche volta avevo forse criticato per non aver giocato come mi aspettavo, ma è un campione, è un giocatore straordinario, un giocatore veramente unico e straordinario. Detto questo, poi dopo la Juve, insomma, ha preso due gol, due gol che sono, fanno molto riflettere, fanno molto riflettere perché nascono da degli errori brutti, degli errori gravi, errori concettuali, perché il colpo di tacco che fa Betancourt è proprio un errore concettuale. La prima regola del gioco del calcio è che è quella che io dico sempre quando alleno i bambini, gioca dove vedi, gioca dove vedi, dove vedi sai cosa succede, alle tue spalle non lo sai. Betancourt non può fare lì un colpo di tacco, è un colpo di tacco scelerato, è un errore concettuale gravissimo. Lì lui doveva soltanto prendere la palla, fermarla, quadrato, boom, palla per la punta. Punta, stop, centrocampista, cambio gioco. Questo è il gioco del calcio, non il colpo di tacco. Io divento matto a vedere uno che fa un... io fossi stato l'allenatore, lo prendevo e dicevo fai una bella cosa, vieni qua e sentiti di fianco a me, mettiti la tuta e stai qua. Anzi no, stai qua al freddo così almeno la prossima volta ti ricordi della cazzata che hai fatto. Poi c'è anche la compartecipazione di Pjanic che arriva un po' scordinato su quella palla che va a Vorini e fa il gol del 1-1. L'altra cosa grave e che è una cosa che a me fa veramente incazzare è che io voglio sapere chi è stato il primo, il precursore di questa marcatura zona sui calci d'angolo. È una cosa... io divento matto, io sono... non riesco a capire i vantaggi che possa portare. Sì ci sono i blocchi ma i blocchi si possono anche rompere. Se tu fai un blocco a Vierkovo, finivi là a te, il pallone e il blocco, tutti insieme, lo facevi a Montero, lo facevi a Bergamo e finivi là a te, lui e il pallone, tutti. Perché non tornati a un po' a vent'anni fa quando non c'era questa marcatura? Ieri il gol che prende la Juve, il rigore causato a Bonucci è ancora frutto di questa marcatura zona, perché lui arriva in ritardo, non ci può mai arrivare, perché se tu il calcio d'angolo lo batti bene a zona, tu sei sempre morto, eppure niente, si continua ad andare avanti con questa marcatura zona, che è una cosa che io divento... io veramente divento matto. È una sconfitta preoccupante secondo me per la Juventus, soprattutto per come è arrivata, perché proprio non c'è stata partita ieri, e inviterei probabilmente la società Juventus, non Mister Sarri, la società Juventus a fare delle riflessioni, perché credo che siano stati messi da parte troppo presto giocatori come Mario Mandzukic e anche Emre Can, perché non credo sia stato Sarri a farlo fuori, ma sia stata la società a farlo fuori, a discapito di giocatori che devono ancora crescere anche tanto, che sono Betancourt e Rabiot, che anche ieri Guidolini ha detto in ripresa, ma Rabiot, se gli fate una domanda ieri a Rabiot, che colore aveva la maglia il portiere del Verona? Secondo me non sai anche dirti il colore perché non ha mai visto in avanti, ma gioca sempre semplice senza mai rischiare una giocata, allora lì potevo giocare anch'io, mi mettevate un codino, nessuno si accorgeva della differenza. Condividete il video se vi è piaciuto e continuate a seguire Mister Primi. Ciao e grazie!